www.toscana.it 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 La poserà sulla spalla di Malatesta Non escono, vedi, perché sono due sorelle A prendere la fascia è la concorrente numero 6, Ginerra Malatesta! E' la fascia numero 9, Ginerra Malatesta! E a prendersela è la concorrente numero 15, Gloria Osomor! Silvia Faticchi, Monica, che farà anche il pinzodono alla ragazza del tuo accessorio, oltre la fascia. E allora, prendi questa fascia, forse è la prima volta che accade questo in finale nazionale, non lo so, a memoria non me lo ricordo, credo che sia la prima volta che in finale nazionale abbiamo due sorelle! Concorrente numero 12, Ginerra Malatesta! Vieni! 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 Janelo! Lo dobbiamo solo per le foto... La ritireremo... لك solo per dietro a Gianluca... ma ragazze... una di queste ragazze sarà praticamente la più eletta, la più votata questa sera qui in Toscana, quindi le verrà tolta la fascia che indossa e le verrà assegnata la fascia di drug vice principessa d'Europa Toscana. io vado il regia. Grazie,naviz! A LORRA! ci definiamo leggermente, anzi venite con me, venite accanto a me così almeno loro le facciamo un pochino di emozionare di più una di voi è Miss Toscana 2020 siete tutte in finale nazionale ma il nome che è qui dentro ha la valenza che supererà di diritto la prefinale quindi sarà già in finalissima quella televisiva in onda sul canale sky ok? vado a spillare questo nome è Miss Principessa d'Europa Toscana 2020 questa volta gli toglieremo una fascia, gliele metteremo un'altra ma gli poseremo anche la corona sul capo è Miss Principessa d'Europa 2020 la concorrente numero la concorrente numero 21 Martina Caponeri Grazie! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti